La tecnologia nel 2010 è diventata un fattore essenziale e abilitante in diversi ambiti, in particolare per le donne, sia nel mondo del lavoro che fuori dal mondo del lavoro, diventa essenziale avere dimestichezza e capacità nelle tecnologie. Questo serve per entrare nel mondo del lavoro, per poter fare una carriera, per poter gestire meglio la parte professionale e la parte personale. Futuro al femminile è il progetto di Microsoft e Acer che da anni promuove le tecnologie al servizio delle pari opportunità. Attraverso l'osservatorio delle donne nella PIA, realizzato insieme a Forum PIA e a Dinail, noi abbiamo raccolto ogni anno da 4 anni a questa parte le migliori buone pratiche sul territorio, quindi provenienti da comuni, regioni e province, che avessero come obiettivo migliorare la condizione femminile, sia interna alle amministrazioni che esterna. E in particolarità molti di questi progetti sono stati sviluppati e realizzati da Timal Femminile.